buonasera poi chiedetemi perché mi autodefinisco sfighella allora mi sono tinte capelli metà neri e metà fucsia la parte fucsia l'ho decolorata per farli fucsia la ricrescita nella parte nera potete notare che sembrano tutti bianchi nella parte rosa potete notare che sembrano tutti neri questo perché non è che sono a righe realmente ma perché ho un colore di cacca sul biondo mi era strammato che sullo scuro sembra chiaro e sul chiaro sembra scuro e quindi come me vuoto me vuoto sempre is sono a camaldi schiena sto un po meglio un po un po meglio di ieri però c'ho ancora acciacchi da tutte le parti dunque la proiezione mentale l'escursione psichica e l'egregora tre terminologie due delle quali non si usano più da una ventina d'anni hanno cambiato le terminologie ma il succo non cambia e proprio perché non si usa mi sto sfasciando l'orecchia con le alette di remone ecco proprio perché non si usano più due di queste terminologie ho deciso di fare il video invece esplicativo proprio su queste e con questi termini perché se voi cercate per internet almeno io l'ho fatto prima di parlarvi di queste due terminologie e mi sono appunto resa conto che non vengono citate praticamente da nessuna parte e il che è assurdo perché se una persona studia anche solo su libri datati il tutto infatti è nato proprio da un libro datato che ho aperto oggi come sapete come dico sempre io prendo spunto dal consiglio che mi da l'universo di giorno in giorno per fare i video e oggi mentre mi cascava in mano il mio antiquatissimo dizionario enciclopedico della parapsicologia che tra l'altro è datatissimo ora non mi ricordo di preciso ma lo dico se la trovo a trattata tra 1989 quindi contate 31 anni ci ha è stradatato e proprio qua mi è cascato l'occhio delle tante terminologie sul termine di escursione psichica dall'escursione psichica che appunto io studiai oltre 30 anni fa in automatico mi è venuto in mente per cognizione che ora poi vi spiego di causa la proiezione mentale e il rapporto completamente diverso ma in qualche modo collegato dell'egregora ma partiamo dall'inizio ciò che un tempo veniva definita escursione mentale oggi si potrebbe definire in qualche modo uscita in negativo l'avevo spiegato nel video dove appunto spiegavo le differenze tra il negativo e l'astrale che se cercate nei miei video lo trovate ecco un tempo il negativo cioè l'uscire in negativo veniva chiamato escursione mentale perché dava l'impressione di uscire dalla propria mente per andare nei vari luoghi nelle varie dimensioni e via dicendo più che altro luoghi più che dimensioni in negativo si utilizza di più normalmente per spostarsi linearmente sul nostro spazio però si può usare anche per le dimensioni bisogna vedere la capacità delle persone è molto più veloce come dicevo anche nell'altro video rispetto all'astrale che invece ha necessità di 3-4 ore di allenamento e di preparazione più che altro anche se sia capace a meno che non sia un involontario un astrale involontario allora in quel caso può essere automatico anche solo addormentandosi o così a cazzo un do coio coio quando capita capita ma invece l'uscita in negativo quella che adesso ai giorni nostri in parapsicologia in occultismo in spiritismo si chiama appunto uscita negativa uscita in negativo viaggio in negativo un tempo veniva chiamato escursione che per la stessa cosa vuol dire uscire andarsene a zonzo escursione mentale cioè uscire dalla propria mente per maggiori dettagli sul negativo potete tranquillamente andare a vedervi l'altro video che avevo già fatto onde evitare già per me il tempo è sempre tiranno perché io parlerei per ore ma poi non mi carica i video quindi stringiamo riassumiamo nel dubbio c'è il video un po di tempo fa se volete vi metto anche il link qua sotto nei link delle descrizioni per andarvi a vedere anche il video sulla strade e sul negativo appunto che è la stessa cosa mentre invece la proiezione mentale la proiezione psichica di questa non ho ancora parlato sarebbe similare all'escursione mentale ma la proiezione psichica non è solamente un uscire dalla mente e andare in un determinato posto o da una determinata persona ma è proprio proiettarcisi quindi gli altri che sono in quel posto avranno la possibilità di vederci se siamo proprio dei geni della proiezione ci vedranno materiali come se fossimo in carne ed ossa se invece siamo capacini ma non troppo ci vedranno in versione diciamo fluttuante un po come se fossimo dei fantasmi ma in realtà siamo vivi e vegeti stiamo proiettando la nostra immagine in un dato posto quali sono le differenze le differenze sono esclusivamente di cognizione nostra cioè di chi esce dal dal dalla mente dalla testa dal corpo perché perché il negativo ho detto anche appunto escursione mentale serve per lo più per noi cioè io esco in escursione mentale e vado a verificare in quel posto vado a vedere scusate vado a controllare quel posto quel luogo quella persona o appunto quella dimensione nel caso in cui sia particolarmente brava invece la proiezione psicologica la proiezione psichica scusate è l'esatto opposto ovvero nel momento in cui io mi proietto non vedrò quasi nulla di ciò che ho intorno se non la mia mira preposta cioè io voglio proiettarmi da te perché devo farti capire una cosa devo farti sapere una cosa allora mi proietterò di fronte a te vedrò però io in quel modo solo te non vedrò il contesto che hai intorno tu mi vedrai nel contesto al contrario del negativo io ti vedrò solamente a te la mia mira e basta e li ho a gesti niente mi si era interrotta la cam non so per quale disgraziato motivo spero di riuscire a unificare i due video e spero anche abbia filmato il mio nessuno mi vede ma io vedo tutto nell'altro caso io vedo solo la mia mira la persona a cui voglio proiettarmi ma lui stesso lei stessa e altri anche nel nella zona avranno la possibilità di vedermi apparire in qualche modo ci sono stati peraltro nella storia così sembra nelle corti antiche alcuni diciamo antenati degli illusionisti che riuscivano proprio a farlo anche sul palco anche in pubblico questo diciamo questa proiezione mentale di se stessi la proiezione può proiettare però non solo noi stessi ma anche immagini differenti e la proiezione può essere anche telepatica ovvero io posso mandarti un'immagine per via telepatica ma lì si tratta di telepatia mentre invece la proiezione psichica io mando un'immagine faccio un esempio di una tazzina so che sei al bar con altri tre amici ti faccio non materializzare perché sarebbe toccabile invece non è toccabile però ti faccio apparire l'immagine di questa tazzina sul tavolo che tu riesci a vedere e riescono a vederla anche gli altri tuoi commensali nel momento in cui mi deconcentro stacco la connessione la tazzina fantasma perché era comunque incorporea era una proiezione si va a disgregare si scioglie e sparisce e questa è la proiezione psichica che appunto ho fatto il vaccino dell'influenza e mi fa male il braccino dicevo sperando che non mi salta il nuovo video un'altra volta che adesso devo pure unire insieme mi scappa da ridere sperando che la mia ciofeca ram del mio ciofeca pc riesca a reggere la schifezza che ha registrato il mio ciofeca phone da ciofeca sveva questo è tutto no scherzavo dicevo l'ultima che spiego in questo contesto semplicemente perché anche questa è una creazione mentale è l'egregora l'egregora però normalmente non viene creata da un unicamente ma viene creata da un gruppo di menti capaci solitamente le gregore erano le mandate i mandati dalle congreghe dalle sette che avevano capacità occulto spiritiche occulto esoteriche non spiritiche occulto esoteriche ed erano capaci appunto a creare questi aiutanti tra virgolette che però grazie al potere psichico di più persone tutte capaci diventavano praticamente materiali nella storia del romanzo gotico per lo più le gregore venivano mandate a vendicare qualcuno ad assassinare qualcuno perché era un essere praticamente la forma la decideva la congrega o la setta in grado materialmente di commettere qualunque azione quindi dall'aiuto alla stretta di mano alla coltellata allo smembrarti e mangiarti per pranzo questa era l'egregora l'egregora è un essere creato da piumenti sempre con l'energia psichica e sempre in forma proiettiva quindi è sempre una proiezione ma è una proiezione talmente potente da essere materiale mentre invece la singola persona riesce quando non è capace a creare delle proiezioni psichiche evanescenti quindi comunque a livello spiritico a livello impalpabile non materiale che possono però dare idee dare consigli portare messaggi a distanza anche di parecchi chilometri se io devo obbligatoriamente dare un'informazione importantissima a una mia collega di congrega facendo sto facendo un esempio ovviamente posso autoproiettarmi davanti a lei e magari a gesti o telepaticamente col messaggio in qualsiasi altro modo scrivendolo a mezz'aria o facendo appunto sempre a livello di proiezioni apparire le parole in qualche modo l'avviso di persona voi direte ma oggi ci sono i cellulari chi se ne frega di fare tutto questo casino in effetti il ragionamento non fa una piega ma mettete che il collega che dovete avvertire sia in mezzo alla foresta equatoriale e non abbia il telefonino dietro può sempre risultare comodo imparare a fare una proiezione psichica mentre invece ripeto l'escursione mentale è semplicemente l'uscita è negativo che ho spiegato nell'altro video spiegazioni molto brevi molto corte ma il succo era questo e ci tenevo a spiegare anche queste tre tipologie diciamo di creazioni mentali attraverso capacità ESP o allenamento in materia occulta e in materia esoterica vi do la buonanotte tenterò di montare questo video in due parti perché il ciofecafon ha pensato bene di farsi le ferie tre secondi e mezzo tra un video e l'altro a natale non gliele do si vede questo meglio e vi ricordo che qua sotto ci sono i link con tutti i social dove io bazzico e saltello peraltro i miei video stanno fortemente dando tanto fastidio sia agli spillaspiccioli in giro per il web e sia dalla altra parte ai fanatici religiosi di qualunque religione ogni volta che io sottolineo di essere atea ateo scintoista e ci tengo proprio con le bandierine a sottolinearlo ma questo fa parte dei miei orgogli personali i link sono qua sotto più sotto ancora ci sono i link di alcune delle tante librerie che tengono i miei libri in vendita che al momento sono tre entro domani doveva uscire il quarto ma avrò qualche giorno di ritardo perché sono stata poco bene e non sono riuscita a finirlo ma comunque sempre entro fine mese in ogni caso uscirà il quarto libro che è il secondo romanzo che è il sequel del primo romanzo si intitolava INA il secondo si intitolerà KNR per maggiori dettagli andatemi ad acchiappare su facebook nella mia pagina scrittrice niente stasera sono più scima del solito vi do la buonanotte e ci vediamo domani ciao